Le 19.30 la giovane promessa Mohamed Salah, 22 anni con tanto talento e velocità e ruolo di attaccante esterno e comunque anche di ala totalmente mancino. Per lui l'accoglienza da parte dei media, anche qualche tifoso all'aeroporto di Peretola e poi subito il trasferimento nell'albergo che è anche la sede di ritiro dei Viola dove ha incontrato il direttore tecnico Edoardo Massia e il direttore generale Andrea Rog. Qualche parola, uno scambio di battute anche sulla partita di ieri sera e poi andiamo a sentire il suo primo commento a Viola Channel. Sono veramente felice di essere qui e spero che sia anche un passino avanti per la mia carriera. Sono in tanti, so che mi hanno seguito anche come tifosi dall'Egitto e si sono informati molto del mio passaggio dal Chelsea qui alla Fiorentina e naturalmente anche per loro spero di fare assolutamente del mio meglio. Poi ieri sera ho visto la partita, la squadra mi è piaciuta tantissimo, la vittoria contro la Roma è prestigiosa anche perché ci permette di andare avanti in Coppa Italia e naturalmente affrontare la Juventus. Poi ieri sera ho visto la squadra di Tottenham con il Tottenham con il Basilea, un gol importantissimo per me nel caso che permise la qualificazione al turno successivo proprio del Basilea e quindi speriamo che sia una bellissima partita anche in questo caso con la maglia della Fiorentina. In Europa League poi ho servito anche 5 assist in quella stagione, quindi insomma una competizione che mi piace e spero che andrà benissimo anche qui. Sì, con Egazzi ho parlato, il mio connazionale naturalmente mi ha raccontato tutto di qui, dello spogliatoio, di come si sta bene in questo gruppo, dei ragazzi che sono giovani e anche del modo di giocare a calcio qui che sicuramente servirà anche alla mia crescita professionale. Il mio ruolo esatto in realtà è di ala a sinistra, posso giocare anche a destra.